Sì, poche saluto dall'amministrazione, ringrazio a tutti di essere qua a Sorrento, ma io ringrazio queste due anime che sono Antonino e Isabetta, che hanno portato la quattordicesima edizione di Sorrento Gezzo. Ormai è una manifestazione che fa parte della nostra amministrazione, sia durante la rassegna che questa invernale di Milano e l'inverno che stiamo crescendo di anno in anno. È arrivata la stessa edizione grazie al supporto non solo dell'amministrazione ma anche al grosso supporto della regione Campania e quest'anno si è stata vicina e cresce tantissimo nel nostro lungo percorso che stiamo facendo. Sorrento Gezzo è un trampolino bilancio non solo, soprattutto per i giovani, dove Antonino guarda sempre e quindi dà la possibilità di potersi esprimere davanti a una platea come la vostra che è stupenda. È un momento veramente culturale che la musica è cultura e quindi ci fa grandi. E soprattutto in un momento come questo qua del Natale io voglio passare un augurio a voi e a tutte le nostre famiglie di consiglio di Natale, da parte mia e da parte tutta l'amministrazione.